Se l'artista vuole certe cose che non sono diciamo nel manuale della tecnica si deve inventare una tecnica che va bene all'artista che è sempre calcografia di solito acquatinta, acquaforte, bulino, rotella, maniera zucca allora mescolando o vedendo è un metallo che si sceglie zinco, alluminio, ferro, rame, ottone e c'è tante altre cose perciò nel contemporaneo ho questa voglia di apprendere o comunque di esprimersi da parte dell'artista per me uno stampatore può nascere, può diventare stampatore e poi imparare bene e poi mettere su uno studio per conto suo quello è importante piccolo, magari con due o tre o nessun collaboratore dove può lavorare con certi artisti questi lavori fatti con calma eccetera facendo diventare un mestiere, una routine non va tanto per me, non gli rimane che lavorare scoprire, partire comunque dall'origine è sempre meglio fa il percorso normale cioè impara a incidere bene come si incideva secoli fa il che non vuol dire che è passato non è che si mantiene la tradizione si vede l'abilità quando ho imparato bene come si usa la punta come si usa l'acido come si usa la vernice che va sopra allora può andare e può fare quello che vuole però facendo prima e dimenticando il principio per conto mio tante cose le sbaglio o gli vengono per caso o fa della cucina solamente grazie